Trascurano volutamente il lato economico, indennizi e risarcimento connessi all'annullamento delle due autorizzazioni per la realizzazione delle centrali a biomassa nell'area matesina. I referenti del comitato area matese vogliono riportare al centro della discussione la tutela della salute pubblica. Lo hanno fatto inviando ben quattro noti alla dirigente del servizio politiche energetiche Angela Uffiero, che però non hanno avuto alcun seguito. A spiegare in conferenza stampa il punto di vista del movimento Angela D'Aversa, che insieme a Felice Pettograsso, Alessia Aurieme e Maurizio Iannetta hanno puntato sull'annullamento come unica forma ammissibile di autotutela, tale da scongiurare l'ipotesi del risarcimento milionario alla Civitas. Si è perso un po' di vista quello che è il rischio salute e quindi il diritto alla salute dei cittadini, poiché nell'autorizzazione delle due centrali, durante la conferenza di servizi, a nostro avviso ci sono state delle carenze, delle omissioni, che hanno portato a vizi di legittimità delle autorizzazioni. E mancavano quindi le misurazioni della qualità dell'aria, delle polveri sottili e altri agenti inquinanti. In sede di conferenza dei servizi, secondo gli esponenti del movimento civico-politico, non sarebbe stato valutato il rischio sanitario derivante da emissioni atmosfere in contesto ambientale sconosciuto. Il che equivale a dire che non è stata tutelata la salute pubblica. Motivo questo di annullamento inattaccabile, secondo Ari Amatese. L'articolo 191 della Direttiva della Comunità Europea lo dice espressamente. Per un principio di precauzione, se non si è in grado di determinare sul territorio la presenza degli inquinanti, quindi monitorarli, classificarli, bisogna considerare questi valori già ultrapassati, superati. Questo l'ARPA lo ha fatto al Ministero quando ha inoltrato il progetto di zonizzazione, che non è un piano di zonizzazione, lo ricordiamo, ma tutti questi rilievi, queste ammissioni da parte dell'ARPA che ha formulato al Ministero, non sono state, non so se stranamente o meno, fatte proprio nella conferenza di servizi.